Autore Salvatore Costa Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS compagnia così questa è una ruina ma così è come sta da fare è sta da fare può salvare questa società così è solo una mano grossa grossa, grossa, grossa grossa, grossa che è spuntata ok ok